... ... ... ... ... ... Ha perso un punto che aveva già vinto per la sufficienza ... ... Ha perso un punto che aveva già vinto per la sufficienza Questa è una gioca molto meglio del figlio di Patrice Dominguez, prende il primo set 6-0 dal torneo e poi vince il torneo. Questa è una gioca molto più grande. 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 L'uscita dei suoi colpi, Melman impatta bene, anticipa... Questa è una gioca molto più grande. Anche per questioni di tempi mancano due punti, potenzialmente alla fine del set. Questa è una gioca molto più grande. 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 l'abuso della palla corta è quello che più questa è tutta la differenza è cambiato lo scenario ha rallentato poi ha accelerato la possibilità matura anche in carattere è accettato bravo l'ha vinto col tuo colpo meno sicuro lo scambio per 5-3 punti di fila al servizio bello Francesa adesso due servizi per chiudere il match 17 e porta fortuna il giorno di gloria di Benoapè è arrivato batte ciao Grazie.